che meraviglia che meraviglia belli bravi bravi come attori è niente scontato che attori della nazionale si prestassero a fare qualcosa di simile che il ct della nazionale si prestasse a fare qualcosa di simile che un maestro del mar come lucarelli fosse dei nostri invece lucarelli e dei nostri dal mar si sono andati al blu notte e poi piano piano all'azzurro si è confessato gian lorenzo chicco blengini ma mica basta il ct della nazionale benvenuto sul giudizio da attore lasciamo perdere se andiamo un pietoso velo però il coraggio per esserti prestato vale manca un mese e mezzo cominci a sentire la tensione no 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 sul buongiorno a tutti intanto e grazie dell'invito massimo grazie a tutti della dell'invito dell'accoglienza mi fa molto piacere essere qua è un posto dove era un po di anni che non riuscivo a venire domanda mi fa sempre molto piacere esserci chiacchierare confrontarsi e insomma dividere del tempo passare del tempo insieme a noi perché questo è il nostro mondo il nostro ambiente non non c'è la nazionale il club c'è la pallavolo e si sta molto bene nella pallavolo la pressione no non la sentiamo tutti parlano di tensione di pressione di responsabilità c'è ma no ma noi basta quella che ci mettiamo noi a noi stessi perché noi vogliamo fare bene quello che c'è intorno a noi è molto importante ma non ci non ci aggiunge della pressione perché noi ce ne mettiamo molta perché sappiamo di avere qualità e vogliamo fare fare qualcosa di importante due anni fa dopo le partite delle olimpiadi quelle che voi avete seguito qualcuno fortunato era lì con noi a vivere a tifare in brasile ci fermavamo fuori dal mare canaisigno con chicco blencini passo 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 si andava sempre più avanti e si aveva una certezza senza dirselo che quella squadra aveva raggiunto la chimica come fai a trovare la chimica non c'è una ricetta semplicemente quella connessione sarà stabilita si tratterebbe visto che parte di quel greggio e di cui parlavi quando ti confessavi era un copione quindi non mi assumo la responsabilità per parte parte di quello dei termini parte di quei ragazzi sono sono gli stessi si tratterebbe di ristabilire quella quella chimica e noi eravamo molto confidente perché sapevamo avevamo infiducia perché sapevamo ci guardavamo e sapevamo di averla quella chimica si costruisce si costruisce senza senza parlarne ma parlando di quello che deve essere il passo successivo e poi ci sono dei momenti in cui le squadre e questo è accaduto a tutti noi credo in alcuni contesti in altri no ci sono dei momenti in cui le squadre prendono consapevolezza e all'interno di un percorso che non necessariamente avviene in un momento preciso con una vittoria o con o dopo o dopo magari un risultato negativo ma è un passo passo che che ti porta a raggiungere con l'equilibrio tecnico mentale di consapevolezza di davvero poter arrivare lontano senza vivere questo arrivare lontano come un'ossessione ma come un diciamo il traguardo di un percorso noi stiamo cercando quello abbiamo riniziato a lavorare da lunedì io mi mi sono assentato qualche ora ma giuro che ho chiesto autorizzazione all'allenatore per poter allontanarmi dal ritiro come fai se no e e quindi in questo cammino cerchiamo i nostri passi quotidianamente sia tecnici abbiamo ovviamente analizzato il tutto il confronto con le squadre che con le quali c'è da competere per grandi obiettivi ci sono analisi che riguardano la nostra squadra e dove vuole arrivare tecnicamente al 9 di settembre tutto è strutturato per cercare di fare questo e su questo quotidianamente metteremo ognuno la nostra massima disponibilità e applicazioni ci sarà il 9 settembre l'inizio del mondiale che vivrete ovviamente in diretta in esclusiva sulle reti rai ci sarà la nazionale poi ci sarà il campionato da superlega crede in banca quella che abbiamo presentato e stiamo finendo di presentare oggi vesti i panni dell'uomo comune del tifoso comune dell'appassionato comune arriva leon e torna simon i giocatori sono sempre più forti il campionato è sempre più bello quindi andresti già fare l'abbonamento a me verrebbe voglia di andare a farlo adesso questo perché abbiamo parlato subito di nazionale ma era insomma doveroso io credo che il campionato veramente stellare non bisogna dimenticarsi delle stelle perché stiamo parlando molto di quelli che arrivano ma il nostro è un campionato che aveva già parecchie stelle negli anni passati l'anno scorso e non in solo in pochissime squadre ma ce ne sono ben distribuiti in molte squadre questo bellissimo campionato stellare non vediamo tutti l'ora che inizi noi abbiamo qualcosa di leggermente importante da fare prima che inizi il campionato di cui siamo tutti impazienti però insomma adesso ci dedichiamo a quello e poi siamo davvero impazienti che inizi questo campionato perché si prospetta sia tecnicamente che dal punto di vista dell'aspetto e con la rita davvero splendido perché questa è la parata dei grandi club però due anni fa dopo quell'olimpiade dopo quell'evento se era riacceso o acceso di più un fuoco i palazzetti erano pieni e tutta una connessione parlavamo di chimica e connessione fate quello che dovete i palazzetti saranno pieni gian lorenzo faremo il massimo grazie grazie già mi viene il brivido lucky già c'è il brivido per quello che sarà dal 9 di settembre settembre grazie 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 grazie